assente dai social per molto tempo nina morick torna a raccontare ai fan la sua dura esperienza la modella croata è infatti ricoverata in ospedale a volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili grazie scrive in una story in un'altra pubblicazione invece fa presupporre ad un problema di salute e da un possibile intervento anche nell'ora più buia della nostra vita un po di fede fa molta strada domani sarà un giorno migliore ha scritto la modella adesso ci tiene però a lanciare un video messaggio per i fan che in questi mesi si sono preoccupati per lei buonasera sì diciamo che non è stato un periodo facile ho avuto questo malessere che per fortuna è stato sconfitto grazie all'equip e tutti tutti i medici infermieri anestesisti di umaitas di lozzano che sono veramente gli angeli custodi e quindi voglio ringraziare tantissimo dottor testori dottor ringer dottoressa veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito che mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita e ci sono un po di conseguenze però sono forte e tutto andrà benissimo detto questo sto bene e mi dispiace di aver adattato non volevo assolutamente dare nessuna preoccupazione a nessuno però anche disinformazione del mio caso l'amore che parla di malessere senza scendere troppo nei dettagli e rivolge i suoi ringraziamenti a tre medici rispettivamente un senologo un chirurgo plastico e un chirurgo toracico facendo dunque per esagire che il suo intervento potesse essere qualcosa di serio riguardante il seno detto ciò ringrazio i fan e svanisce di nuovo